Spali in vena di regali, tanto per stare in clima natalizio, quella che ha sprecato un'incredibile serie di palle-gole che ci ha messo del suo in occasione delle reti del Castelfranco che hanno sancito il 2-2 finale tra l'undici di Sassarini e di Modenesi. La squadra ferrarese, cosciente del fatto che dopo il pareggio con il tutto cuoio e la sconfitta di Piacenza, un altro passo falso l'avrebbe probabilmente estromessa dalla corsa per la commozione, è partita con il piglio giusto. Già al sesto Rocchi aveva l'opportunità per sbloccare il risultato, ma il centravanti, non in grande giornata, spiecava la favorissima opportunità. L'appuntamento con il gol era però rimandato, solo di pochi minuti, infatti al dodicesimo Laurenti, servito da Cubiglios, beffava il numero uno ospite con una precisa conclusione sul primo palo. Sembrava tutto facile per la spalca al ventinovesimo, dopo un'azione avviata ancora da Cubiglios e proseguita da Laurenti, vedeva sempre Rocchi arrivare in ritardo all'appuntamento con un pallone, solo da spingere in rete. Quando i ferraresi tiravano fatalmente il fiato, la Virtus Castelfranco iniziava a far capolino nella metà campo dei padroni di casa. Al trentunesimo Cortesi, che nel frangente godeva di generosa libertà, faceva spiovere in piena aria un pallone per De Vecchis, che superava Gallo, ma non Nodari, che in disperato recupero allontanava la sfera dalla porta. Era un campanello d'allarme non tenuto in debita considerazione dai padroni di casa, soprattutto da Rosati, che si addormentava su un pallone filtrante di Perelli, tenendo in gioco De Vecchis, che, confermando le sue doti realizzative, riportava le sorti del match in parità. La spalla reagiva rabiosamente. Saliva incate da Cubiglios, al quale Sassarini concedeva maggior libertà. Al trentasettesimo, il colombiano, dopo un preciso servizio di Rocchi, calciava in diagonale, spedendo il pallone a lato di un soffio. Passavano pochi secondi, sempre Cubiglios avviava un'azione proseguita da Rocchi, che metteva l'orientia tu per tu con Gibertini, graziato però dal tocco impreciso del numero 7 di casa. Anche l'avvio della ripresa era tutto di marca estense. Al terzo, angolo di Massacesi, colpo di testa di Calistri messo in angolo. Al sesto, gran lavoro di Rocchi, non scutato da Cubiglios. Al diciottesimo, doccia gelata per gli uomini di Sassarini. Massacesi e Marcolini cincischiavano al limite dell'area. La palla arrivava a De Vecchis, che con un preciso sinistro saliva a 11 nella classifica dei cannonieri. La spalla non si faceva prendere dallo sconforto. Al ventiduvesimo, Rocchi, sempre lui, non arrivava per mettere in fondo al sacco un tiro cross di Cintoi. Al ventitreesimo, grande intuizione di Cubiglios, che liberava l'orienti sgambettato da Perelli in piena area. Rigore ineccepibile, che il colombiano trasformava con grande freddezza. La spalla ci credeva e si catapultava in avanti a cercare l'unico risultato utile per restare in corsa. La Viltus Castelfranco non stava però a guardare e dal trentasettesimo ci voleva un gran recupero di Rosati per chiudere su Fornato lanciato verso Gallo. Poi il disperato assedio finale ferrarese. Al quarantesimo girato a colpo sicuro del solito Cubiglios, al quale solo un intervento da Cineteca di Gibertini negava il gol, che al quinto di recupero sfiorava anche Nodari, con una conclusione in mischia che seppur di poco sorvolava la traversa ospite. Era l'episodio su cui definitivamente tramontavano le speranze della spalla di tornare alla vittoria e probabilmente anche quelle di restare in corsa per il primo posto. Grazie.